Non so cosa dire, non so come stare vicino ad un malato di cancro, queste sono tutte domande che molti familiari, parenti o amici di malati di cancro mi pongono. Partiamo dal presupposto che anche qua non esiste una parola o un metodo o una circostanza che va bene per tutti. Tutti siamo diversi, tutti reagiamo in maniera diversa alle situazioni che ci propone la vita, quindi quelli che ti sto per dare sono dei semplici consigli che potrai prendere come spunto e adattarli alla tua situazione. Considera che la maggior parte delle volte un malato di cancro che sia uomo o donna nasconde la propria sofferenza per non essere di peso agli altri, è un automatismo che scatta con la malattia. Considera che in psico-oncologia si dice che il malato va in protezione. Consiglio numero uno ascoltateli, l'ascolto è una forma di interazione veramente importante. Invece di parlare, di dare consigli, di dare sempre stimoli nuovi o in qualche modo anche di dare informazioni diverse rispetto a quelle che ha il malato, provate innanzitutto ad ascoltare quali sono le loro parole. Le parole dicono molto di ciò che è nella testa di una persona, le parole creano il loro stato d'animo, di conseguenza potrete capire meglio come si stanno sentendo e come stanno reagendo alle terapie. Quindi prima di tutto il silenzio e l'ascolto. Consiglio numero due, informatevi, ovvero cercate informazioni, notizie che possono arricchire la vostra conoscenza e al tempo stesso la conoscenza del vostro caro. Consiglio numero tre, offri aiuto pratico. Le incombenze quotidiane in una famiglia sono tante e durante la malattia possono diventare veramente dei macigni. Quindi proporsi per dare una mano e magari fare le cose insieme sarà sicuramente apprezzato. Non aspettate che ve lo chieda al malato proprio perché l'ultima cosa che vuole è proprio quella di sentirsi un peso per voi. Consiglio numero quattro, siate pronti a ridere, a ridere, a sorridere, a portare leggerezza tutto ciò di cui ha bisogno il vostro caro malato. Il senso dell'umorismo è una grandissima dote e se ce l'avete non mettetela da parte in questa situazione difficile. Tiratelo fuori. Consiglio numero cinque, ditegli ti voglio bene. Troppo spesso diamo per scontato che gli altri sappiano i nostri sentimenti. Nonostante noi li possiamo dimostrare con abbracci, caresse, coccole, in realtà tutte queste manifestazioni non sono sufficienti. Non bastano, non quando una persona è travolta dalle terapie e da una situazione così devastante. Quindi ditegli ti voglio bene, ti amo, per me sei importante, sto bene insieme a te. Non dovete inventare poesie, semplicemente affermare a parole tutto ciò che provate. Mi auguro che questi consigli ti possano tornare utili e al tempo stesso ricorda che se vuoi approfondire l'argomento io sono qui per te. Se ti piace il video metti un like e condividi con i tuoi amici. Grazie!